Musica Pare che questo sarà un freddo autunno, le previsioni del tempo dicono che nevicherà già da novembre. Musica No! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dove sono? Oddio, la testa gira tutto. Non riesco ad alzarmi. E fatico a respirare. Merda, sono come paralizzato. Che cosa mi sarà successo ieri sera? E come ci sono finito qui? Questo suono è assordante. Devo trovare un modo di spegnerlo. Muovi il piede destro. Muovi il piede destro. Muovi il piede destro. Avanti, Giona, non è difficile. Muovi quel cazzo di piedi. Non ricordo di aver mai avuto dei ticca agli occhi. Basta! Ok. Adesso il piede. Non è difficile. Come diamine ha fatto Badricks Kid and Kill Bill. Muovi il piede destro. Muovi il piede. Perfetto. Ora dovrei solo rotolare verso il telefono. Mi sento come uno stronzo d'invalido. Ed è parecchio umiliante. Per fortuna che non mi vede nessuno. Merda! Che fastidio questo suono! Avanti. Con la gamba ce l'ho fatta. Fai il parale. Prendi quel telefono e rispondi. Guarda tu la situazione di merda in cui mi ritrovo. Che ore sono? Chissà che ora sono finito qui. Perfetto. 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 32 chiamate senza risposta. 15 messaggi. Che cosa può essere successo ieri sera? Spero di non aver combinato casini. Non mi obbricavo così da quando avesse già i miei 18 anni. John? Sì? Porca puttana. È da ieri sera che ti cerco. Ah. Ma davvero? Si può sapere che fini avevi fatto? Eh. Bella domanda. Come sarebbe a dire bella domanda? Vuoi dirmi che non lo sai? Ti hanno mai detto che sei un tipo acuto? Fottiti John. Mi spiegherai in un altro momento. Ora ti conviene chiamare Ada. Mi ha scritto qualche minuto fa ed è fuori bulla. Non vorrei essere nei tuoi panni. Oddio Adano. Non ho voglia di farmi urlare nell'orecchio da lei. Te lo meriti amico. Dopo la tua scomparsa di ieri. Eravamo tutti preoccupati. Se riesci richiama quelli che ti hanno telefonato. Ti saluto. Ok capo. Ok capo. Adano. Devo proprio chiamarti. Adano. 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 Scusami tesoro, ma ora non ho proprio voglia di sentire la tua voce da gallina. Devo assolutamente scoprire cosa è successo ieri. Ok, ieri sera. Ieri sera ho dato una mia festa. Ok, ieri sera. Ieri sera ho dato una festa per la mia vincita all'otto ed era piena di gente. Dintorno alle 21 bevo un drink e poi... Buio totale. Finalmente ti sei degnato di rispondermi. Ma com'è bello sentire la tua voce suave di prima mattina. Numero uno non è prima mattina, dato che è quasi mezzogiorno. Numero due non ti azzardare a prendermi in giro. Su, su, sai che mi piace scherzare. Non essere quasi permalosa, come al solito. John, ma che fine avevi fatto ieri sera? Eravamo tutti preoccupati, soprattutto io. Guarda, piacerebbe saperlo anche a me, ma ho un vuoto totale dalle 21. Ma ci credo che non te lo ricordi. Eri ubriaco, ubriaco marcio. Totalmente fuori controllo. E poi, intorno a mezzanotte, sei sparito. Buona sapersi. Buona un cazzo, avevo paura che fossi finito sotto una macchina o che ti avessero arrestato. Ah, dada, come sei pessimista, dai. Io sto bene, credo. Senti, John, chiama Ed e chiedegli scusa. Ti ha sopportato per tutto il tempo e ti ha aiutato a camminare. Ovviamente finché non sei sparito. D'accordo, d'accordo. Magari puoi aiutarmi a ricordare qualcosa. Bravo. E poi vai subito a casa, fatti una doccia e mangia, ok? Sì, mamma. Ci sentiamo più tardi. Ti amo. Anche se mi fai incazzare. Sì. Anch'io. Ciao. No. 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 John, ma che fine vi hai fatto ieri sera? Ciao Ed, in realtà speravo me lo dicessi tu Sai, sto cercando di ricostruire i fatti ma... Cioè, insomma, speravo che tu potessi aiutarmi Cazzo amico, ma veramente non ti ricordi più nulla? Questo è un bel problema, tanto che ti hai perso intorno a mezzanotte Sì, lo so, Adam mi ha detto tutto È strano da parte tua avere così tanto Non ti riconoscevo più, eri fuori di seno Continuavi a urlare a correre in giro Ah, davvero? Beh sì, sai, è strano, insomma Ma essermi ridotto proprio così male Sai che sono uno tranquillo Sì, John, lo so Infatti Cosa? Sputa il rospo! Ecco Come dire, io credo che ti abbiano drogato Ecco, lo so che è pazzesco C'è qualcosa che sei abituato a sentire dal telegiornale Ma quando ti capita Beh, è diverso E come fai a dirlo? Beh, c'era tanta gente alla testa Tu hai bevuto soltanto qualche birra Poi hai preso quel drink Ecco, da lì hai iniziato ad essere strano Sei nato in cataletti per qualche secondo Ti ho chiesto se sta di bene Poi, tutto ad un tasto vi sei ripreso E ho ordinato un passaggio di shop di vodka E avrai bevuti 5-6 nel giro di qualche secondo Assurdo vedere certe scene da te Non l'avevi mai fatto Edi Ti ricordi per caso chi mi ha dato quel drink? A me pare che tu l'hai portato la cameriera Ma non credo che il barista ti abbia drogato Insomma Ti pare piuttosto improbabile come cosa Ma sai con loro cosa è successo? Cioè Che cazzo? In quelle ore di buio avrei potuto fare qualsiasi cosa? Senti Hai controllato il portafoglio? Il problema del telefono Magari c'è qualche indizio Come nel film Una notte da leoni Cazzo bravo hai ragione Lo faccio subito Merda Trovate qualcosa di utile? Mi hanno rubato tutti i soldi E anche la carta di credito Oh porca troia John Quei figli di puttana Potrebbero averti distruggere la sua vincita Ed averti drogato per prenderti tutto Cazzo Potrebbero averti votato il conto Beh Ma non credo di aver dato a nessuno il codice E poi la banca mi avrebbe inviato un messaggio In caso di prelevo superiore a 50 euro Ah beh Meglio così Ma nei portafogli quanti soldi avevi? Circa 2000 euro in contanti Ma non so quanto io abbia speso il bar Di certo non ne avevi spesi 500 Quei fessenti se ne sono andati con un bel po' di grana Edoardo? Sì John? Come fai a dire che fosse più di uno? Beh non so Insomma Ci vuole coraggio a fare una cosa simile da solo Semplicemente ho pensato Che potessero essere almeno in due Ma poi sai Sono solo ipotesi Sì certo Solo ipotesi Beh comunque anch'io posso credere Che siano stati due o tre In fondo in quella via girano molti tossici Esatto John I tossici Non escludere la possibilità dei tossici Penso che dovresti fare qualche domanda al barista Anche se probabilmente ne sa meno di noi Ecco Forse non ti conviene nemmeno E invece io credo proprio Che ci tornerò E farò proprio qualche domanda Tanto per Sapere Cosa hanno visto Sicuro che sia una buona idea Insomma Forse non saranno molto contenti di rivederti Dopo il casino che ti faccio i veri Contenti o no risponderanno alle mie domande Ok Ma pensaci bene prima di tornare Sì D'accordo Intanto Sfoglio giurlino Magari trovo qualcosa Ok Ciao John Ciao John Ciao John Mi pare ovvio Non c'è nulla D'altronde Quale ubriaco In compagna di gente Che lo deruba Si metterebbe a far foto Con il canale miro No c'è nulla Lo deruba Sfoglio di gente On c'èmontare ko Sfoglio di gente Mmm 양ni min alien E si Si Lo savo Ho E E E Il mio nome è John Blazer Ho 21 anni e studio Statistica all'Università di Milano Tutti mi definiscono brillante in ciò che faccio I miei genitori sono americani e mi hanno concepito a Sacramento, California Sì, la capitale che nessuno conosce Credete tutti che sia Los Angeles, ma non è così Tornando a me, ci siamo trasferiti in Italia quando avevo tre anni Per via del lavoro di mio padre Lui è un imprenditore e non ha mai avuto problemi nel mantenerci Ora vivo da solo in un piccolo bilocale Perché a me sono tornato a Sacramento Date le mie competenze nella Statistica, gioco spesso ad azzardo E qualche giorno fa ho vinto 100.000 euro all'otto Ieri notte, mentre davo la festa per la mia vincita Sono stato drogato e derubato da una o più persone Ed è inutile chi diate degli stronzi ai miei rapinatori Perché voi avreste fatto la stessa cosa Insomma, chi non sbava di fronte ad un bel po' di soldi? Beh sì, dico proprio a te Tu, che mi fissi ogni volta mentre prelievo al Bancomat O che osservi il mio portafoglio di marca quando pago al supermercato Tu, brutta zecca Vittima della crisi economica del tuo bel paese Tu devi sapere che io sono una persona molto particolare Sai cos'è il DDI? No, come potresti saperlo? DDI è l'acronimo di Disturbo Dissociativo dell'Identità Un po' come Dottor Jekyll e Mister Fottuto Hyde Adesso mi immagino la tua faccia perplessa mentre ti starai chiedendo E tutto questo cosa c'entra? Beh, quando ero piccolo ho fatto molte sedute da una psicologa Specializzata nei casi di disturbo della personalità multipla durante l'infanzia Credevano tutti che io fossi guarito Fino ad oggi Salve! Salve! Lei deve essere dottoressa... Cori, dottoressa Cori Ma preferisco essere chiamata per nome Vorrei rendere una certa confidenza con i miei pazienti trattandosi di bambini E quindi posso chiamarla... Anna Anna Essendo un nome palindromo si ricorda facilmente In genere sono cori Palindromo? Dal greco? Paline indietro Dromos Corri Corri indietro Oh, complimenti signor Blazer Ha per caso studiato greco? Oh no, no, no Io sono solo un imprenditore Però in effetti mia mamma è di origine greca Ah, capisco Il suo nome? Così siamo alla pari Eh, Colin Ma puoi chiamarmi Col? Ok, Col Vorrei avvisarti da subito che preferisco essere lasciata da sola con il mio paziente No, 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 non c'è problema Io vado a fare una passeggiata Capito, John? Adesso io ti lascio qui con bella signora che vuole parlare con te E quando il papà torna ti porto a prendere un bel gelato Ciao, quindi tu devi essere John Adesso andiamo di là e ci sediamo Facciamo quattro chiacchiere Così diventiamo subito buoni amici, eh? Sono molto felice di conoscerti, sai? Io mi chiamo Anna E ci vedremo spesso nelle prossime settimane Quindi spero che riusciremo ad andare d'accordo I tuoi genitori mi hanno detto che non parli mai Ma come puoi sentirti libero? Io sono tua amica Mi hanno detto anche che parli spesso da solo Ma sai, anche io lo faccio Non c'è nulla di cui preoccuparsi Aiuta ad accrescere la nostra autostima Tu sai cosa vuol dire autostima? Bravissimo Sei super bravo per essere un bambino di sei anni Da grande avrei sicuramente dei voti altissimi a scuola In effetti è così Ascolta, hai voglia di confidarti un po' con me? Degli sposi che andava bene Mi hanno detto che lo fai spesso E che a volte sei un po' vivace? Vivace Spaccavo i piatti e decapitavo i soldatini Vivace mi pare un termine leggermente limitativo Ma sai, a me puoi dire tutto Potrei stare tranquillo che manterrò il segreto Da lì iniziai a raccontarle di tutto quel che facevo Le dissi di come passavo Dall'essere un bravo bambino all'essere un diavoletto Senza nemmeno rendermene conto Le raccontai di come i lunghi discorsi che facevo da solo Fossero alimentati da un continuo litigio con il John bravo e il John cattivo Le suali parole, eh Le spiegai che faticavo a dormire Di come mi svegliavo spesso la notte Ma che nonostante ciò Al mattino mi sentivo sempre pieno di energia Tutto questo era alternato da periodi in cui mi comportavo bene Periodi generalmente più brevi Rispetto a quelli in cui alternavo l'io cattivo a quello normale La dottoressa annotava meticolosamente ogni mia parola Ogni mio segreto Lei era l'unica a sapere nel dettaglio i miei comportamenti Continuovo a raccontare Perché mi fidavo E... Devo dire che mi stava anche simpatica Non mi scorderò mai la dottoressa Anna Cori Di quei suoi lunghi capelli biondi Di quel suo sorriso col rossetto rosso E di quei suoi grandi occhi verdi Probabilmente da bambino mi era infatuato di lei Pensandoci bene Oltre che il disturbo dissociativo Deve avermi fatto superare anche il complesso di Oedipo Di che il disturbo Chi è? Sono John, posso parlarti un attimo? Certo, sali pure A dire il vero, speravo scendessi tu Va bene, arrivo subito Ciao John, cosa devi dirmi? Sono stato al bar Il barista mi ha detto che ti ha visto parlare con due tipi strani Sospettavo che c'entrassi qualcosa Non mi quadrava che avessi ipotizzato subito la possibilità che fossero in due E tanto meno che mi volessi persuadere a non tornare nel bar Aspetta John, non è come sembra Pezzo di merda, tu non me la racconti giusta Adesso basta con le cazzate Raccontami tutto nei dettagli e ti farò pentire di avermi conosciuto Andiamo amico Non crederei davvero che ti abbia drogato per prendermi soldi Io non ti ho accusato di nulla Sei tu che l'hai detto Adesso ci penso io a tirarti fuori tutti i dettagli Adesso ci penso io a tirarti Sì Ed, c'è forse qualcosa che desideri dirmi? Io sono davvero dispiaciuto per quello che è successo Non so cosa mi sia passato per la testa Ero così geloso Ah ti dispiace Bene, bene Facciamo progressi Vedi che sei stato tu a drogarmi? Voglio sapere tutto nei minimi dettagli E vedi di non raccontarmi altre balle E, 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 calmiamoci Va bene Ti, ti dirò ogni cosa Sono tutto orecchi I soldi li hanno loro Mi dissero che sarebbero fatti vivi nel pomeriggio E poi Non so cos'altro dirti Non sai cos'altro dirmi AAAAAA! Ok Ed, adesso facciamo un patto Io ti tolgo il guanto dalla bocca Ma se ti azzardi di nuovo a gridare Giuro che ti decido la carotide, ci siamo intesi? Che c'è amico? Cos'hai? Non ti verrà mica da piangere, vero? Sai che non mi piacciono le femminucce Oh no Proprio adesso Ciao Ada, dimmi pure Ci stavo lavorando Proprio oggi Non possiamo fare un altro giorno No, no, ma cosa ti salta in mente? No, no, aspetta, aspetta Mi ha chiuso il telefono in faccia Diamine, ora dovrò proprio farti fretta Ok Ed, riproviamoci Dimmi tutto quello che sai di ieri sera E vedi di non fare il vago Perché questa volta ti taglio un orecchio Un po' come fa Mr. Blond nel film Le Iene Quando ho saputo della tua vincita Ero molto geloso Avrei voluto anch'io un po' di quei soldi Così decisi di chiamare due miei vecchi amici Dimmi chi sono, voglio i loro nomi Demetrio Merelli e Giacomo Casucci Eravamo compagni di classe e le medie Ma le superiori ci siamo persi di vista Eravamo molto amici Ma loro finirono sulla brutta strada Entrano in giri di droga E decisi di non frequentarli più Ah, che storia commovente Mi viene quasi da piangere Dimmi cosa mi avete dato Scusami John Scusa un cazzo Un mix di droga dello stupro e ketamina E quale dei mille tipi di droga dello stupro Che esistono al mondo avete deciso di darmi? Lo Stilnox o il Rhypnol? Lo Zolpiden Ah, quindi lo Stilnox Beh, non essendo potente come Rhypnol Certo rimane insapore Ah, sei parecchio informato Mi prendi per il culo Vuoi, vuoi davvero fare lo spiritoso con me? No, no John, scusami No, no, ma dico Vuoi davvero prendermi in giro? Lo sai che non ti conviene in questa situazione, vero? Adesso ridi pure Ma mi trovi buffo? Non ti rendi conto che potrei ucciderti da un momento all'altro? Eh? Che ho in faccia un naso rosso per caso? No amico Proprio non ci siamo Dimmi dove posso trovare questi due Potrebbero essere loro Slegami che controllo Troppo facile così Codice di blocco 28-03 Giacomo Troviamoci nella casa abbandonata tra due ore A quale casa si riferisce? Quella vicina all'osservatorio Mi tocca fare tutta quella strada Prendo il tuo telefono per precauzione No, no, aspetta Se mi dovesse cercare qualcuno Non dovranno fare molta strada per trovarti Nessuno mi può drogare Poi pretendere di passarla liscia Hai capito? Prendo il tuo telefono Prendo il tuo telefono Prendo il tuo telefono Non una parola So benissimo che sono in ritardo E questo non ti autorizza a farmi una scenata Visto che sei tu quella nel torto Dato che mi hai fissato un appuntamento Riattaccandomi il telefono in faccia Senza aspettare che ti dicessi Sì, sì, certo Oppure no Ho da fare Se ti aspettavi che la mia risposta fosse la prima Beh, ti sbagli di grosso Perché sì Avevo da fare E no Non avevo alcuna voglia di venire qui Quindi dovresti solo ringraziarmi A prescindere da quello che avevo E che ho da fare E ora finiamo qui la scenata Che non ti ho dato modo di iniziare John Ma che ti succede? Non ti riconosco più L'ho stato drogato e derubato Devo proprio spiegarti il mio stato d'animo? Forse Pensi che dopo la mia vincita al lotto Le cose per me siano tutte rose e fiori, vero? Beh Ti sbagli di grosso Non è così Vuoi proprio sapere cosa è successo ieri sera alla festa? Lo vuoi davvero sapere? Sì, certo Dai E forse vuoi anche sapere cosa ho fatto fino adesso? Sì, sì Te lo leggo negli occhi Leggo la tua curiosità di sapere cosa ho fatto Soltanto per giustificare il mio ritardo Non è vero? No Non sono sicura che mi interessi Dopotutto avrai avuto le tue buone ragioni Per fare tardi Certo Ho delle ragioni che oserei definire ottime Ragioni che purtroppo adesso Mi spingono ad andarmene Per finire quello che ho iniziato Volevo solo sapere se stavi bene Eccolo che arriva Ma è stato meglio E tu che cazzo sei? Un martello Un chiave inglese Un cacciavite Una chiave al bussolo Cosa potrei usare? Questo lo prendo per sicurezza Usando questo vecchio martello rischia di far partire via la testa Forse è meglio la chiave al bussolo Sì Direi che è perfetta Autore dei sottotitoli e caratteri Grazie a tutti. 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 Oh no. Non dirmi che un altro di quei casi di merda che mi prendi. Pronto? Arrivo subito. Per codice 1-8-7, per codice 1-8-7 si intende nel linguaggio della polizia americana il classico morte, delitto, omicidio. Allora, che cos'è? che abbiamo qua? E' un'altra, che è un'altra. Il corpo del reato, che è un'altra, che è un'altra. è un'altra, che è un'altra, è un'altra, che è un'altra, che è un'altra, che è un'altra. No, 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 no. Lo scontro deve essere stato molto raro. Le due vittime non avranno di certo avuto il tempo di scappare, ma uno dei due ha tentato di reagire con il coltello. Ed il fatto che fossero armati mi fa supporre che stessero aspettando il loro salitore. Detective, possiamo portare via i cadaveri o devo ancora vedere qualcosa? No, sì, portateli pure via. Io ho visto abbastanza, grazie. Perfetto. Probabilmente dovevano solo discutere, ma la situazione poi è degenerata. Eppure una chiava a bussola non è facile da nascondere. Che il colpevole avesse avuto uno zaino? No, lo scontro. Troppo poco pratico. Doveva avere già l'arma in mano. È possibile che il colpevole sia entrato con l'intenzione di uccidere senza nemmeno parlare, vogliendo alla sprovvista le due vittime? Sì, di sicuro sarà anche andata così. Ma almoventi? Cioè, non si compie un duplice omicidio per divertimento. E dato che erano i due, una donna lo escludo. La droga, i soldi. Forse gli dovevano dei soldi, oppure gli avevano urbato delle dosi. Quando si è in crisi, l'astinenza ti porta facilmente all'omicidio. Ho bisogno di più indizi, così non ho piste da seguire, cazzo. E tu che cazzo sei? Avete derubato la persona sbagliata! No, Jack! Ah, figlio di puttana, adesso non fai più il giro senza la tua arma, eh! Jack, Jack! E io ti puttana, io ti ho matto! Ciao! 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 Agenti, io vi saluto perché ho visto abbastanza! Alla prossima, Detective Dai, Limoni, mi stia bene, eh Alla prossima, Detective Le faremo sapere quando abbiamo i risultati dell'analisi Mio caro ragazzo A cosa ti serve il cellulare della vittima? Varenze Dalla droga agli omicidi Nessuna tregua per la città di Varenze Che dopo gli scappi Scandali per traffico internazionale di droga Con conseguente arresto di un posto della malavita londinese Lo scorso anno Malagio a lui Varenze si riconfermano a Black City In seguito al ritrovamento di tre cadaveri nella giornata di ieri Cazzo, anche i giornali ne parlano, merda Alla prossima 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 Le indagini sono state affidate al detective Raffaele Grauco Che pare essere di ritorno da una brutta esperienza con l'alcol Di cazzo di telegiornale di merda che sparano sullo Strobsal Alla prossima Alla prossima Alla prossima Sono un cazzo di vicolo ciego. Ho assolutamente bisogno delle analisi della scientifica. Cazzo. Arriva la telepatia. Vedremo che sarà lotto. Avete qualcosa per me? Non abbiamo ancora finito di analizzare tutte le prove, ma ho delle novità. Sì, che tipo di novità? In obitore abbiamo controllato tutte le tasche dei corpi. Ecco, perfetto. Comunque si arriva al dunque. Nulla di rilevante per il ragazzo nello scantinato, ma... Eh basta con sta cazzo di saspe. Ok, ok, volevo solo enfatizzare ciò che sto per dirle. Abbiamo ritrovato una cifra di 1854 euro e 20 centesimi nel portafoglio di una delle due vittime nella casa. Tutto qua. No, i due corpi sono stati identificati come Demetrio Merelli e Giacomo Cazucci. Il ragazzo a quei soldi aveva anche una dose di cocaina nella tasca della giacca. Eh, dimmi di più su di dopo. Qualche precedente. Entrambi hanno scontato i servizi sociali per spaccio ed uso di droga. Nulla di grave. Beh, guarda, ti dirò, è tutto molto interessante. Peccato che io non possa perdere tempo con queste stronzate interagendo con tutti i tossici della città. Infatti c'è dell'altro. Bene, allora, vai avanti, vuota il sacco. Sulla busta che conteneva la cocaina abbiamo trovato delle impronte digitali. Sì, di chi? Di chi cazzo? Voglio saperlo. Gaspar Díaz. Ah, perfetto. Aspetta. Com'è che hai detto Gaspar Díaz? Buon, perfetto. Allora, fate una cosa, chiamatemi appena sapete dell'altra. Certamente. So già da chi andare per trovarlo. C'è una teoria secondo la quale con una catena di massimo sei persone è possibile entrare in contatto con qualunque essere umano ed in genere questa catena si conclude con il signor tre cani. Un'altra cosa si diceva. Allora, io ho un nome e mi serve sapere dove trovare la persona. Di che si tratta? Un certo Gaspar Diaz. Ti costerà molto. Sì. Quantifica questo molto? Certo. Ma non se ne parla neanche, se vuoi 50. 50 milioni. Senti, ti devo ricordare chi sono io. Se no, se non vuoi collaborare, ti metto dentro per intraccio all'indagine. Mi pare giusto, 50. Facciamo che ti do una birra e la chiudiamo qua. Cameriere, una birra al mio amico, per favore. Gaspar Diaz. Chi lo cerca? Sono della polizia, lo sto cercando. Guarda, sta arrivando adesso. Merda, fai attenzione, cazzo. Grazie a tutti. Fermo! Fermo! Fermati, animale! Mettiti in ginocchio. Subito! Metti le mani dietro la testa, bravo. Vieni su! Il sospetto è in custodia. La p***a madre! Vai, forza! La p***a madre! Ti conviene calmarci se vuoi continuare a mangiare quei cazzo di tato. La p***a madre! La p***a madre, perra! Grazie a tutti! E rai di nso. uscito dal carcere solo pochi giorni fa. Le cause sono ancora da accertare ma non si esclude nulla nemmeno che all'origine del litigio ci sia stata una richiesta di soldi da parte della vittima. E ora passiamo a delle notizie un po' più tranquille. John Blazer dopo aver vinto il jackpot all'otto ha dichiarato. Non ho la minima idea di come spenderò questi soldi ma credo che inizierò dando una festa con i miei amici. Notizia dell'ultimo secondo. Pare che uno dei ragazzi ritrovati morti ieri fosse proprio un amico di John Blazer e che fosse presente alla sua festa. Cazzo di merda ragazzi. Io sai che saprei cosa farci dopo tutti quei soldi. Ciao. 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 Io voglio tutti i tasselli per risolvere il caso. non so se mi hai capito. E li fornirà lui stesso in centrale? Eh, sì. E se invece non fosse lui? Con il sangue comunica prova? Come cazzo faccio a ricostruire tutti gli avvenimenti? Quindi cosa intende fare? Domande. A tutti i suoi conoscenti. Se è andato a una festa vuol dire che ho molta gente a cui chiedere. Secondo me è come cercare un agono in quagliari. Fai una cosa, prova ad accedere al suo profilo Facebook. Perché mai? Dovrei forse scrivere a tutti gli amici? No, controlla solo se hai fidanzato. Detective, lei è un genio. Sì, bene. Grazie del genio, ma adesso muoviti, per favore. Bingo! Eh, dimmi tutto, però. Adapa domani, la cerco è il database. Abita in via Goldoni, numero 10. Perfetto. Fai una cosa, mandami una sua foto per email, almeno riesco a vedere chi è. Certo, lo faccio subito. Eh, ok, perfetto. Intanto mi dirigo verso la sua abitazione. Certo, lo faccio subito. A Padovani? Sì, sono io. Può salire in macchina, per favore? Ma io non la conosco. Cosa vuole da me? Se ne vada o chiamo la polizia. Guardi, ha ragione, ma sono io la polizia. Ho per caso commesso qualche reato? Lei mi auguro di no, ma probabilmente John. John? Spero non sia per l'altra sera. Salvi in macchina e ti facciamo due chiacchiere. Ehi, capelli biondi, occhi azzurri, ho ordinato tu il detersivo. Che cosa? Questo detersivo. Ah, sì. È che non sapevo le chiamassero detersivo. Parla piano, uso nomi diversi ogni volta per non farmi beccare. Sai, mi controllano. Chi ti controlla? La DIA, gli Illuminati, la Chupa Chups, tutti Bigfoot. Bigfoot? Sì, Bigfoot, amico, quel figlio di puttana non mi dà pace e mi seguo ovunque io vada. Ma quindi vuoi dirmi che tu lo vedi? Sì, cazzo, amico, è dietro di te. Ok. Parliamo dell'arma? Ah, è vero, è vero, hai ragione. Allora, Magnum calibro 44. Come quella dell'ispettore Callaghan, hai visto il film, no? Eh, no. Sì, cazzo, amico, quel film è una cazzo di bomba. C'è Clint Eastwood che fa il culo a tutti quei criminali negri. Devi assolutamente vedertelo. Lo terrò a mente. Ok, comunque dicevo... Cosa stavo dicendo? 44 Magnum. Ah, sì, come quella dell'ispettore Callaghan. Sì, ma questo lo hai già detto. Scusa, amico, ho dei problemi con la memoria, sai? Le scie chimiche. Sì, proprio loro. Ovunque è una 44 Magnum. Lo stai facendo di nuovo? Facendo cosa? Stai ripetendo quello che hai già detto. Ripetendo cosa? 44 Magnum. Ah, come quella dell'ispettore Callaghan. Ascoltami bene, razza, hai tossico che non sei altro. Non ho tempo da perdere, quindi adesso mi spieghi subito come funziona questa merda. Ehi, ehi, calmiamoci, amico, calmiamoci. Ti stavo dicendo che questa 44 Magnum ha sei colpi. Così si apre, così si chiude, tiri il cane e sei pronto a spazio? Ehi, ehi, ehi. Non puntarmela addosso. No, scusa, amico, hai ragione. Vabbè, non sembra difficile. No, dico, ma che cazzo ci devi fare con quel cannone? Ho anch'io un Bigfoot che mi perseguita. Wow, grande amico, insomma, ti ho appena dato una 44 Magnum. Con quella puoi aprire un melograno da almeno due metri. Sì, più o meno sarà come sparare un melograno. Cazzo, amico, non si scherza con i melograni. Una volta conoscevo un tipo che conosceva un tale a cui gli è morto il cugino per colpa di un fottuto melograno. Buona a sapersi. Questi sono tuoi, vero? Sei cento, giusto? Oh, cazzo, amico, sei un grande. Stasera mi sballerò come non mai. Beh, divertiti. Merda, fai più attenzione, cazzo. Che cosa ha combinato il mio John? Con molta probabilità è responsabile dell'omicidio di tre persone, compreso il vostro amico Edoardo. Cosa? John non farebbe mai del male ad una mosca? Beh, se hanno molti più motivi per far male a una persona che ha una mosca. La scientifica ha trovato il sangue del signor Blazer su un coltello, un coltello che apparteneva a una delle due vittime, che con molta probabilità uno dei due ha cercato di usare per difendersi da John. Il problema è che il sangue da solo basterebbe per incastrarlo. Ma io voglio il movente. Non capisco. È sempre stato un ragazzo così tranquillo. Però... Però? Che cosa? Alla festa era strano. Strano in che senso? Come strano? Era... Era euforico, non si controllava più. Ricordi esattamente il momento in cui è iniziato ad essere strano? Ieri John mi disse che quella sera lo drogarono. Era rimasto solo con Edoardo verso le 22. E poi sparì. Ma come faceva a sapere che lo avevano drogato? Non lo so. Non me l'ha voluto raccontare. L'ultima volta che l'ho visto era così di fretta. ha detto che andava al bar ad indagare. È possibile che sia stato drogato per la vincita in quanto in uno dei portafogli delle due vittime abbiamo trovato un'ingente somma di denaro. Ma io non capisco perché avrebbe dovuto ucciderli. Vendetta. Pure la persona più tranquilla può diventare una bestia. Tutto questo è assurdo. John non è un assassino. Le prove però sono a suo sfavore. è lui. Che faccio? Rispondi ma senza prima voce. Ok. Ciao John. Ho bisogno di parlarti. Ci possiamo vedere? Sì, va bene. Ok. Incontriamoci tra un'ora al parchetto dietro al tribunale. Va bene, va bene. A dopo. Ada, mi deve aiutare ad incastrarlo. Lo so che è il tuo ragazzo ma tu non devi essere suo complice. Devi darmi una mano ed è per il suo bene. Per il suo bene? non sappiamo se commetterà a altri amici. E lui deve essere fermato prima che possa avere il tempo di farlo. Ok, detective. Mi dica cosa devo fare. Tu andrai all'incontro. Probabilmente ti confesserà qualcosa ma non ne sono tanto sicuro. Vuole mettermi un microfono? No, 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 no. Le cazzate da FBI non mi piacciono. Tu andrai lì e ascolterai tutto ciò che ha da dirti. Poi mi riferirai tutto. E vedi di non mentire perché certe cose in tribunale potrebbero essere scomode anche a te. Mi riferirò tutto. Nei minimi dettagli. Beh, non hai nulla da dirmi? Sto pensando. E a cosa stai pensando? Ma come iniziare il discorso? Devo forse preoccuparmi? Suppongo di sì. Allora, parto dal principio. Quando ero piccolo soffrivo del disturbo di personalità multipla detto anche disturbo dissociativo dell'identità. Parlavo da solo con una specie di amico immaginario che mi spingeva a fare anche brutte cose. John, perché non me ne hai mai parlato? Perché ero al ricordo del passato. Ho sempre cercato di reprimerlo. Capisco bene. Ma sono stato aiutato da una psicologa. E dopo varie sedute e i farmaci mi ha aiutato a guarire. Solo che... Solo che? Non ha mai escluso la possibilità che il disturbo potesse ripresentarsi in età adulta. Stai dicendo che... Sto cercando di dire che ha ucciso tre persone. Alla festa sono stato drogato da Ed e da certi suoi amici che hanno versato della merda nel mio drink solo per derubarmi. L'hanno fatto per i soldi, capisci? Ed, il mio migliore amico. John, io... Quelle droghe devono aver risvegliato l'alter ego che si era assopito nella mia mente. John, stai tranquillo. Insieme riusciremo a venirne a capo. No, Ada. Io ho fatto delle cose orribili. Devo pagare per quello che ho fatto. Vuoi costituirti? Costituirmi non servirebbe a nulla. Nell'attesa della sentenza del giudice potrei fare del male ad altre persone senza contare che potrebbero darmi l'infermità mentale. Ma quindi che intendi fare? Tieni. Dopo che me ne sarò andato voglio che tu vada a casa mia. Sul tavolo in cucina troverai un assegno già firmato. Lì c'è la viencita all'otto. Voglio che la tenga tu. John, ma possiamo usare quei soldi per scappare per farci una nuova vita insieme? Potrei farti curare di nuovo. In Germania ci sono delle ottime cliniche. No, Ada, tu non capisci. Tu non puoi capire cosa significhi vivere col fardello di aver interrotto tre vite. No. John! Che vuoi fare. Quindi? Ti ha dato qualcosa? L'ha confessato? Li ha uccisi lui. Sì, questo lo sapevo già ma ti ha detto il motivo? Lo hanno drogato per rubargli i soldi. Come sospettavo. Molto banale ma si rivede sempre nelle scene del crimine. La vendetta. John soffre di disturbo dissociativo della personalità. Che cosa? Oh Cristo, gli daranno l'infermità mentale. Non credo riuscirete ad arrestarlo. Perché? Per Dio, Ada. Dove è andato? Un'idea. Ce l'avrei. Non credo andato. Fermati! Questa volta non fallirò Oh no 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 Porterò a termine il caso Costi quel che costi Agente Grauco Io la congedo dal caso con effetto immediato Signore ma io Mi consegni la pistola e il distintivo Sì signore Si prendo un po' di tempo per schiarirsi le idee John, ti consiglio di fermarti Così peggiori solo la situazione Si prendo un po' di tempo A presto. 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 A presto.